Io ho un centro estetico, sono una piccola investitrice. Scusi, ho il diritto di parlare a democrazia. Democrazia sta qui ferma. No, sono autorizzato perché io ho un centro estetico e sono una piccola investitrice. E fado. Vedo il fai, poi te lo posso già. Prendi te le spase. Ma non mi importa, dovete sentirmi. Dovete sentirmi, 42 anni di contributi, voglio avere 500 euro di pensione all'Inpsi. Voglio sapere a questi signori parlamentari in 4 anni quanti contributi versano. Perché io...